Il cancro seno resta ancora oggi il tumore più diffuso fra le donne e nonostante le campagne informative e di screening talvolta viene scoperto quando è già in stadio avanzato oppure anche se diagnosticato precocemente può progredire nel tempo e dare recidiva metastasi. In questi casi grazie a notevoli progressi fatti sul fronte delle cure oggi è possibile tenere sotto controllo la malattia anche molto a lungo e nel frattempo condurre una vita del tutto normale. Molte donne però non lo sanno e affrontano questa loro condizione con un grosso disagio psicologico. Proprio per affiancare e supportare le donne colpite dalla malattia ha preso il via e tempo di vita una campagna di informazione e sensibilizzazione sul tumore al seno avanzato promossa da Novartis in collaborazione con Salute Donna Onlus e la società italiana di psico-oncologia e con il patrocino della fondazione Ion. Tra gli strumenti a disposizione delle donne e dei loro caregiver ci sono un sito internet www.tempodivita.it, opuscoli informativi, un decalogo sugli aspetti psicologici della patologia e una serie di videopillole oltre all'intenso programma di incontri sul territorio con oncologi medici e psico-oncologi. La condizione emotiva delle donne afferte da cancro al seno avanzato è una condizione tutto particolare perché esse sanno che resta tempo da vivere, sanno anche che le terapie oncologiche possono prolungare questo tempo di vita ma in qualche misura hanno un disagio emotivo forte perché si sentono marginalizzate rispetto alla rete sociale, si sentono a tratti sole, abbandonate e anche hanno difficoltà a immaginare di spendere in maniera attiva il tempo che le resta. Quindi il progetto che parte oggi insieme con Novartis è quello di informare e di aiutare queste persone, i loro caregiver e i partner, a impiegare al meglio il tempo, il tempo di qualità di vita che gli rimane. Novartis è impegnata da decenni nel fornire dei trattamenti per il tumore della mammella in fase metastatica. Con le nuove terapie oggi si raggiungono delle sopravvivenze molto molto lunghe, abbiamo veramente molti anni di vita ma soprattutto di una vita assolutamente normale che può essere vissuta in modo assolutamente normale. Questo progetto ha proprio il compito e lo scopo di sviluppare questa concezione per far sì che con il supporto psicologico la donna possa vivere normalmente la propria esistenza. Cambiano ancora di più i processi assistenziali per quanto riguarda il tumore della mammella, un tumore per il quale abbiamo un alto indice di guaribilità, abbiamo le migliori sopravvivenze europee con l'87% a 5 anni per tutti gli stadi, ma cosa cambia? Cambia che è una malattia che diventa sempre più cronica, ma cambiano anche i nostri ammalati, molte volte persone che vivono sole, persone anziane, persone che hanno bisogno sociale e psicosociali molto rilevanti. In quest'ambito e questa è la forza di questo progetto è di mettere insieme tutte le componenti, la parte clinica, la parte psicologica, la parte di assistenza psicosociale. Tutto questo a mio avviso può fortemente influire sulla qualità delle cure oltre che sulla qualità di vita dei pazienti.